Il quotidiano immortalato nei suoi dipinti, dai genitori nel cinquantesimo anniversario del loro matrimonio ai nipoti, il maschio ritratto circa un anno fa, la nipotina ora dodicenne nella sua culla. Anche due autoritratti che, dice l'artista, risalgono a 20 anni fa ai volti di Sampio. Ma nella mostra i ritratti e le copie di Giovanni Lamacchia si trovano anche i dipinti di Giuseppe De Nittis, pittore del quale l'artista è uno studioso, al punto da riconoscere i falsi. Il falsario è l'unico criminale che lascia tantissime tracce sulla scena del crimine. La scena del crimine è la tela, ragione per cui chi è esperto di un autore può trovare tutti quegli elementi che gli dimostrano di avere a che fare con un falsario. Lamacchia dipinge sapendo già che chi guarda il quadro sarà attratto dallo sguardo. La mostra è visitabile fino al 1 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30 nella nuova vernice in piazza Massari a Bari.